buongiorno buongiorno fratelli rosa nero e non che stanno guardando che state guardando questo video buongiorno a tutti mi raccomando prima di cominciare prima di proseguire col video mi piace commento e iscrivervi al canale mi raccomando mi raccomando fatelo e soprattutto soprattutto vi ricordo anche di tutti i link sotto in descrizione che sono i miei social eccetera raga che bel sole quest'oggi che bel risveglio io sono distrutto e io ero a casa non oso immaginare tutte le 20.000 passa persone che erano al barbera io sono veramente questa mattina mi sento un cadavere ho dolori ovunque ho dolori ovunque raga la reaction di ieri abbiamo proprio esagerato cioè la partita ha dato troppe emozioni non è che abbiamo esagerato per motivi x troppe emozioni in quella partita tra il buio del primo tempo le critiche nel primo da fine primo tempo e poi la gioia incredibile nel secondo cosa di allucinante veramente abbiamo vissuto proprio una bella serata e sono curioso di sapere voi come come vi siete svegliati questa mattina io molto 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 rilassato molto contento senza voce e con dolori muscolari un po ovunque dai parliamo un po' della partita non mi va di parlare tanto dei singoli ma di qualcuno poi parlerò qualcuno che per me merita un un plauso un po più un po migliore rispetto agli altri anche se nel complessivo poi ripeto quando quando si vince merito di tutti quando si perdi e quando si perde colpa di tutti purtroppo l'approccio è stato è stato un po sbagliato c'è stato un po sbagliato l'ho già detto nel video uscito ieri nel post partita su 31 partite giocate in quattro partite siamo al di sotto dopo pochissimi minuti però 4 su 31 non 18 su 31 e noi e questo sbagliato a dirlo nelle ultime 16 partite ne abbiamo perso solo una ragazzi sono più di metà campionato sono più di metà campionato cioè voi pensate se saremmo riusciti a portarci a casa qualche punto in più in queste 16 partite perché sapete che alcuni pareggi erano un po però con i secchi ma non si va da nessuna parte fatto sta che oggi si giocano poi le altre e vedremo adesso abbiamo abbiamo due settimane di pausa dove non so che cazzo faremo e poi vedremo comunque e poi si va subito a parma comunque fatto sta che strizzolo ce l'aveva già fatto male in passato se non ricordo male segna il primo gol con un'imbucata lì sbagliano siene del ciaro che matteo troppo larghi troppo troppo larghi soprattutto perché la partita comincia da tre minuti la pareggia tuttino che comunque ha giocato una gran partita bravo è venuto a prendersi un sacco di pallone c'è la coppia offensiva solo di tuttino ha funzionato alla grande loro però subito dopo ancora tre minuti dopo la riva rimando in vantaggio ancora con strizzolo e lì lì la difensiva male 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 però vabbè sti cazzi si va all'intervallo arrivano le critiche sui social io quanto vorrei che i social venissero chiusi a fine primo tempo per fortuna che sono in live e le leggo meno vuol dire leggo fine partita qualcosa ma anche live anche live ragazzi a fine primo tempo violette di di cotte di crude sempre con la speranza di crederci inizia la ripresa dopo due minuti nico valente con la fascia da capitano rientra sul sinistro alza un campanile sul secondo palo palla tagliata campanile ok era troppo alta per essere solo tagliata campanile gol edo soleri 2 a 2 e sfatiamo il tabù dei gol da titolare per edo e di edo parlo proprio alla fine poi vabbè c'è il 3 a 2 con verre ripeto troppo intelligente verre il 4 a 2 con aurelio di testa questo ragazzo merita deve soltanto crescere in fase difensiva scusatemi madonna mia deve solo crescere in fase difensiva ma in fase offensiva migliorerà sempre di più diamo tempo a sto ragazzo e poi vabbè arriva anche la gioia per video praticamente raga 5 gol 5 marcatori diversi qualcosa di assurdo allora per prima cosa vorrei parlare prima di parlare dei singoli voglio parlare del pubblico ragazzi ieri non è di certo la prima partita ma ieri ho sentito qualcosa che non sentivo da un po' di tempo il pubblico era ovviamente la partita ha aiutato dopo ma il pubblico era scatenato già subito vai sotto e si sentiva un coro coeso per tutto lo stadio stupendo meravigliosi complimenti a tutti i presenti io spero di rivedervi presto non vedo l'ora di scendere complimenti davvero perché raga abbiamo abbiamo dato spettacolo sia in campo più nel secondo tempo ma anche sugli spalti sugli spalti è stata una cosa di clamoroso ragazzi e non l'idea di quante volte io per una non prima volta comunque grazie anche a i microfoni ambientali di sky che stavolta l'hanno messo un po più vicino alla curva io cantavo tranquillamente con la curva li sentivo perfetti cioè sentivo il capo il track che faceva partire il coro e io che continua assurdo vero è una qualità mostruosa ma non lo scopriamo di certo oggi aurelio è giovane deve crescere ma non lo scopriamo di certo oggi e ai giovani va sempre dato tempo valente ci è arrivato tardi in questa categoria ma anche se non ha cominciato al meglio la partita ha fornito due assist e quindi ed è uno dei pochi che sa fare quei cross così merita sempre tanto perché lotta corre dribbla lo amiamo e quella fascia se la merita anche lui tutino troppo criticato dall'arrivo adesso avrà la sua possibilità di di vendicarsi tra due settimane vido rinato sono contento lo ha sbloccato mentalmente ragazzi se venivano i gol di segre in sforbiciata dal limite dell'aria è il gol al volo di vido penso che un'invasione di campo generale non sarebbe sarebbe stato poco sarebbe stato poco assurdo ultimo ma non per importanza è il loco edoardo soderi ragazzi ci vorrebbe un libro secondo me per scrivere la storia di edo edo lo scorso anno è arrivato in sordina perché comunque a livello professionistico non aveva mai segnato così tanto a livello giovanile perché non lo conosce vado a rivedersi vado a leggere soltanto le statistiche a livello giovanile hanno sempre parlato troppo bene di lui perché i numeri parlavano per lui lo scorso anno segna adesso non vorrei dire una cazzata 13 gol da subentrato cioè praticamente non sapevamo che appena entrava edo segnava perché 13 gol su 40 partite e poi non soltanto gol ma anche assist ha sempre dato l'anima ha sempre corsa sempre lottato non ha mai mollato ha sempre lavorato testa bassa senza lamentarsi e si merita tutto questo e ieri vederlo correre con la fascia è stato meraviglioso poi si si è sbloccato sfatato il tabù ragazzi ma edo non è soltanto gol ragazzi ma quando uno al 93esimo e 30 con 4 in recupero ai crampi non riesce a muoversi ma continuo a correre per prestare sul 5 a 2 ma come facciamo ad alzarci in piedi e applaudirlo veramente eroico si merita tutto questo perché ha sempre lavorato ha sempre dato tutto l'allenamento e adesso sta sta raccogliendo i suoi frutti e sono molto 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 contento per lui raga un bacione a tutti sempre forza palermo più tardi reaction sul canale aspettatela commentatela condividetela e ci vediamo tra due settimane ma vi prometto che mi inventerò qualcosa per tappare i buchi di questi giorni qualche contenuto se siete arrivati fin qui volete darmi qualche consiglietto sarò curioso di leggerlo un bacione e sempre forza palermo